E' in programma per domani l'ultima esposizione estiva del simulacro di Santa Lucia. Come da tradizione, la nicchia all'interno della cappella dedicata alla Santa Patrona della città verrà aperta alle 7.30 con il rituale delle Cinque Chiavi. I fedeli potranno pregare davanti al simulacro argenteo per l'intera giornata fino al termine della Santa Messa, intorno alle 20. Si chiude così, anche per il 2019, il ciclo delle esposizioni straordinari del simulacro introdotto dalla deputazione della cappella di Santa Lucia per agevolare tutti quei concittadini e non solo, che per motivi di lavoro o di studio risiedono fuori da Siracusa e che non possono essere presenti alle feste di dicembre e maggio. La prossima apertura della nicchia, fissata per il 9 dicembre, darà il via alla grande festa in onore della Santa Patrona siracusana. Grazie.